disse Mabender servendogli una bella fetta di torta. Il giovane era a capotavola, i suoi averi, compreso il bel ciondolo d'oro con la foto della moglie e della figlia, erano lì, in bella vista. Il cavallo era già al sicuro nel fienile. Dietro di lui una tenda, un po' logora, sporca. L'occhio dello straniero puntò a una macchia sul tessuto. Era strana, in forme rossastra. Ma ci vedeva doppio e il luogo non era certo noto per la pulizia. Non scorse più John Jr. e Mabender. Simpatici due, pensa. Si sentì tirare con forza la tenda e... E...